Siamo con l'Avvocato Gina Lupo, consigliera di parità della provincia di Taranto, per presentare una iniziativa, le Madri Costituenti, le 21 Madri Costituenti, una iniziativa che si svolgerà nelle scuole di Taranto e della sua provincia, una iniziativa dunque itinerante, sarà non solo una mostra, per così dire, ma una ricostruzione storica di queste figure che parteciparono alla redazione della Costituzione all'indomani del riconoscimento del loro diritto al voto, del diritto al voto delle donne. Certamente, Avvocato Lupo, una battaglia di civiltà, ma anche una ricostruzione storica. Dare luce a queste donne che finora non l'hanno avuta. Ti ringrazio Luigi per l'opportunità che mi dai per raccontare questo progetto, un progetto su cui ho lavorato tanto, anche negli anni passati, e che non ha visto la luce prima per i noti problemi della pandemia. Con le scuole chiuse c'era impossibile recarci nelle scuole a portare questa mossa. Quindi un progetto che era lì pronto da circa due anni. Finalmente sono riuscito a svilupparlo all'interno del mio ufficio di consigliera provinciale e si svolgerà su due livelli. Non soltanto è una mossa itinerante. Quindi noi andremo nelle scuole superiori, come detto bene, di secondo grado, soprattutto nei primi anni, per far vedere visivamente i volti di queste donne con delle brevi noti biografiche. Dico, guarda, se fossero stati 21 uomini, sicuramente quasi tutti i nostri ragazzi li avrebbero studiati sui libri di storia. Adesso non voglio fare polemica, ma essendo 21 donne, un manipolo di donne di cui poi solo 5 hanno partecipato proprio ai lavori più stretti, voglio dire, sono quasi sconosciuti agli studenti. Sono figure sconosciute che invece tanto hanno dato in quei campi come il lavoro, come l'istruzione, quindi nell'ambito della scuola, che hanno dettato, hanno gettato proprio i semi per la nuova legislazione. Ma non è soltanto una mostra, non sarà soltanto una mostra, ma spiegherò ai ragazzi e alle ragazze in maniera molto così, anche abbastanza lieve, il percorso. Infatti il progetto si chiama il lungo cammino dei diritti delle donne, perché è stato veramente un lungo cammino. Toccheremo la Grecia, toccheremo la Roma, la patria potestas, ma soprattutto toccheremo età più moderne, come il risorgimento, come prima dell'Unità d'Italia, dopo l'Unità d'Italia, guardando al diretto, com'era il diretto civile prima, la prima riforma del 1876, la seconda del 1975, cioè un lungo cammino, spesso tortuoso, è stato quello dell'emancipazione femminile, fatto di salite, di tante salite, devo dire, di poche discese, per cercare di far comprendere la realtà odierna, quanto le nostre nonne, le nostre nonne e delle nonne abbiano lavorato, quante volte ci sono le parole delle reputate che hanno detto qualcuno vuole bloccare la macchina che ci vuole portare verso il progresso, quindi non si trattava soltanto di bloccare la macchina di un progresso, ma di un progresso civico, di un progresso di libertà per le donne, che passa anche attraverso alla lettura delle norme, il famoso codice Rocco, col suo codice d'onore, che racchiudeva tutti quegli omicidi, che adesso in maniera sintetica chiamiamo femminicidi, sotto l'onore del marito leso, l'adulterio della donna, che diventava invece il concubinaggio del marito, c'era anche una disparità di sanzioni, una disparità di norme, che permetterà a queste giovani eleve, mi auguro, di essere appassionate, di appassionarsi al mondo del diritto, perché no, anche al mondo della politica, Luigi, e comprendere tanti fenomeni. Ecco, già lei in alcuni mesi fa si era spesa per far sì che, come dire, venisse incentivata la toponomastica femminile. Tante strade, tante piazze, in realtà sono intitolate a poche donne, fatte salve, ovviamente, le intitolazioni alle sante, insomma, alle varie madonne e quant'altro, ma di donne che si sono particolarmente distinte nella società, in effetti le nostre strade portano pochi nomi. E lei si spese, appunto, come in qualità di consigliere comunale anche, presso l'amministrazione per incentivare, appunto, la toponomastica femminile. Devo dire che ho trovato il sindaco Rinaldo Melucci molto sensibile a questo tema. Tanti sono stati gli interventi che ho fatto in questi quattro anni. Ormai arriviamo alla fine di questa legislatura col sindaco Melucci. Ogni qual volta gli ho presentato un progetto che fosse orientato, che avesse il focus sulle donne, il sindaco me l'ha sempre sposato con grande entusiasmo. Così è stato per la toponomastica. In realtà non è Taranto che ha pochi nomi di donne, al di là di qualche santo o di qualche madonna, come a volte io scherzando dico, ma in tutta Italia il gap gender è molto sentito. Qualcuno dirà, vabbè, voi pensate di parlare di parità di genere dalle strade. Guardate, anche da questo un bambino, una bambina capisce l'importanza di una figura femminile in cui magari si può riconoscere. Tante sono state le persone che nella nostra nazione, ma anche nel nostro territorio, si sono fatte riconoscere. Però stranamente quando poi si deve dedicare una piazza, un giardino, una rotatoria, si preferisce sempre una figura maschile. L'ho detto prima a proposito delle 21 madri costituenti. Non abbiamo in tutta Italia, a Taranto non ce l'abbiamo, nessuna piazza intestata alle 21 madri costituenti. Alcune di loro sono passate alla storia. Pensate a Nilde Jotti, pensate alla Bianchi nel mondo dell'istruzione. Anche alla senatrice Merlin, passata alla storia in realtà per la famosa chiusura delle case chiuse, scusate il gioco di parole, però che in realtà ha fatto anche tanto. Però al di là di questo le altre figure sembrano quasi evanescenti. Eppure erano donne che hanno combattuto la resistenza, sono donne che hanno vissuto una guerra in prima persona, sono donne che sono state anche incarciate, però nei libri di storia non le trattiamo. Anche finisco di dire, mi aggancio a quello che hai detto tu, sì, una delibera portata in Consiglio Comunale è stata votata, e di questo sono molto contenta e orgogliosa da tutto il Consiglio Comunale, da tutti i consiglieri comunali all'unanimità, è stata recepita dalla Commissione elettorale, toponomastica, chiedo scusa, del Comune. Quindi ben presto, immagino, avremo, grazie a Dio, un giardino, una strada intitolata alle 21 madri. Oltre aver chiesto una maggiore attenzione alla dedica di una strada, all'intitolazione di una strada a qualche personaggio femminile, proprio per erodere questo gap gender che noi comunque abbiamo, come in tutta Italia. Bene, e allora fatta questa presentazione, questa premessa, già nei prossimi giorni, seguiremo appunto l'Avvocato Gina Lupo nelle varie scuole, nei vari comuni di Taranto e provincia. Devo dire Luigi che noi abbiamo mandato il progetto a molti istituti, a quasi tutti gli istituti superiori non solo di Taranto ma anche di Taranto e provincia, abbiamo già ricevuto mesamente le prime adesioni, e quindi ho già un calendario ricco di tour che mi farà piacere averti anche per vivere da vicino le attenzioni dei ragazzi e cominceremo già subito con alcuni licei che mi hanno già prenotato per questo bel progetto e di questo sono molto orgogliosa.